Prima che succeda un fattaccio, che qualcuno si faccia male e che quindi ne debba anche rispondere il comune, in quanto come è previsto dal codice della strada, la segnaletica orizzontale deve esserci. Dopo aver contattato più volte il comune di Fano senza ottenere risposte adeguate, Alessandro Pini si è rivolto alla nostra redazione per segnalare la mancanza di segnaletica orizzontale in via Mameli, nel quartiere Vallato. In questa strada infatti sono stati eseguiti di recente lavori di asfaltatura, ma come spiegato ieri dall'assessore Fabio Latonelli, le ditte sono chiuse per ferie e i vari interventi in città ripartiranno solo dal prossimo mese. Nel frattempo però i residenti lamentano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Quindi non ci sono strisce pedonali, non c'è la riga in mezzo, non ci sono le righe laterali. Io attraverso 5-6 volte al giorno con due bambine e se già le persone faticavano a fermarsi prima quando in realtà le strisce pedonali già esistevano, adesso che non ci sono praticamente ti passano sopra oppure ti evitano. Tra l'altro, ha aggiunto Alessandro, in questa zona ci sono attività commerciali, tante famiglie e persone che percorrono ogni giorno questa strada. Allo stato dei fatti, se io da questo lato della strada oggi volessi andare dall'altro, non lo posso fare. A meno che non abbia delle ali con me, ma io questo non l'ho, non riesco a saltare così lontano e quindi ad oggi io non potrei attraversare la strada. Quindi faccio un appello al comune, che sicuramente sarà stato un disguido o ci sarà stato un problema che evidentemente non conosco, faccio un appello per fare in modo che questa situazione venga risanata e quindi vengano ripristinate le strisce pedonali, almeno se non può essere fatto con una segnaletica orizzontale, mettete qualcosa di provvisorio per verticale, insomma inventatevi qualcosa, ma l'importante è che queste strisce pedonali ci siano.